Il re nel paniere, fiaba di Firenze. C'era una volta un legnaiolo di corte e questo legnaiolo di corte aveva tre figliole. Un giorno il re gli comandò ad andare a fare un lavoro fuori via, come sarebbe a tagliare un bosco in un paese lontano, una cosa da starci degli anni. Quest'uomo non ci vado al re non lo poteva dire, doveva pur guadagnarsi da mangiare, ma ad andare così lontano gli rincresceva per via delle figliuole che avrebbe dovuto lasciar sole. Rincasò tutto afflitto. Ragazze, sua maestà mi ha ordinato questo lavoro, bisogna che vi lasci, ma voglio che vi contentiate d'una cosa. Di cosa babbo? Che io prima di partire vi muri l'uscio di casa, in modo che nessuno possa entrare né voi andar bene in giro. Se voi dite così babbo, noi siamo contente. Il legnaiolo fece murare l'uscio di casa, lasciò alle ragazze dei quattrini e tutto il necessario. Poi disse, prendete questo bel paniere grande, legatelo alla fune del pozzo e quando passa uno di quegli uomini che vendono la roba per le strade, calatelo con dentro i quattrini e così comprerete tutto quello che vi serve. Si dissero addio, si abbracciarono, piansero e se ne andò. I muratori erano lì pronti e finirono di murare la porta perché ci aveva lasciato un pertugio per passare. Le tre ragazze, non potendo uscire, stavano sempre affacciate alla finestra a naso all'aria. Le vide il re e trovò che ragazze belle come quelle non se ne erano mai viste. Allora si vestì da merciaio e andò sotto le loro finestre a gridare, oh le belle matasse d'oro, oh le belle matasse d'oro. Le ragazze pensarono di comprarne per i loro lavori di ricamo, lo chiamarono. Cosa comandano lor signore? disse lui. A quanto le fate queste matasse d'oro? Lui disse, tre zecchini, un prezzo caro perché era re e non aveva un'idea precisa dei quattrini, ma le ragazze gli calarono uno zecchino nella cesta e gli dissero di mettere le matasse. Attente perché pesano, ce la fate a tirarle su? E loro, volete che non ce la facciamo? Siamo in tre. Allora lui disse, ecco tirate e si cacciò nel paniere. Quando tirato sul paniere a gran fatica, le sorelle videro che c'era dentro un uomo, volevano buttare di sotto paniere e tutto, ma l'uomo si afferrò alla finestra e disse, ferme sono il re, sapendovi sole son venuto a farvi compagnia. Le ragazze si strinsero l'una all'altra e dissero, maestà, noi siamo povere ragazze, come possiamo ricevere un pari vostro? Il re rispose, non ci pensate, io non vado in cerca del lusso, vengo da voi per passare un'ora, perché siete belle e certo siete buone. E aggiunse, quanto mi rincresce che non ci sia vostro padre, perché io da stasera do tre grandi feste, ed è un peccato che non possa pregare vostro padre di mandarvi. Troppo garbato, dissero le ragazze con un inchino, troppo garbato. Quando ci sarà vostro padre ne darò delle altre di feste, disse il re, e voi verrete. Così stette in piacevole conversazione per un'ora, poi si fece calare nel paniere. Le tre sorelle rimasero a chiacchierare fitto fitto su quella visita del re, disse la minore. Ma cosa credete, che io stasera non mi farò calare da voi giù nel paniere? Calarti, e affarchè? Voi calatemi, poi vedrete. Le convinse e le sorelle la calarono giù dalla finestra. La ragazza, che si chiamava Leonetta, portò con sé il paniere e andò al palazzo reale. Entrò dalla porta della cucina. Le guardie erano alla porta grande e poteva entrare. In quel momento i cuochi erano tutti andati a spiare dall'uscio l'ingresso degli invitati e avevano lasciato i fornelli abbandonati. Leonetta cominciò a prender roba e a cacciarla nel cestino. Pogli arrosto, abbacchi allo spiedo, pasticci di maccheroni, torte mandorlate, e tutto quel che non poteva portar via ci buttava sopra cenere e acqua, così da sciuparla tutta. Poi corse via col paniere e zeppo d'ogni ben di dio. Sotto le finestre fischiò alle sorelle che con la fune tirarono su lei e tutta la roba. L'indomani, quando sentirono... Oh, le belle matasse d'oro! Calarono il paniere e tirarono su il re. Il re aveva la faccia scura. Cosa avete oggi, maestà? Oh, ragazze mie, sapeste cosa mi è successo ieri sera? All'ora ad andare a tavola, i servi vanno in cucina e trovano tutti i piatti rovinati con cenere e acqua. Uno strazio, non si poteva mangiare nulla. Si sono buttati tutti ai miei piedi, si sono detti innocenti e gli ho creduto. Ma c'è qualche astro maligno che ce l'ha con me. Ho un traditore che vuole rovesciare il mio trono. Ho fatto mettere guardie dappertutto per la festa che c'è stasera. Se scopro chi è, il pezzo più grosso che lascerò di lui sarà come un granellino di sirena. Le ragazze presero a rammaricarsi. Ma no, ma dica, ma come si fa a far queste cose? E la più costernata era Leonetta. Ma pensi, con un re che è così buono, come ci può essere gente con queste idee per il capo? E il re se ne andò un po' consolato dall'aver trovato tanta comprensione nelle tre sorelle. La sera Leonetta fece alle altre due. Su, su, presto, calatemi. Ma sei matta? Le dissero le sorelle. Stasera te ne stai a casa, dopo quello che hai combinato ieri. Figurati se ti caliamo. Non hai sentito cosa ha detto il re? No e sì, no e sì, finirono per calarla. Leonetta andò al palazzo reale col paniere e invece di entrare nella cucina, che era sorvegliata dalle guardie, scese in cantina. Là i meglio fiaschi e le meglio bottiglie erano tutte per lei. Quando il paniere fu pieno, diede la stura alle botti e scappò via. Lì domani il re si fece tirar su nella cesta più morto che vivo. Che le è successo, maestà? Non vi dico, ragazze mie. La cucina iersera l'hanno rispettata, ma sul più bello della festa, quando ho dato ordine che portassero da bere agli invitati, i servi sono andati in cantina e l'hanno trovata allagata che il vino arrivava al ginocchio, con tutte le botti stappate che buttavano ancora. Maestà, cosa ci dice? Care ragazze, sono tempi brutti. Ci deve essere tutta una congiura per cacciarmi dal trono. Stasera metterò doppia guardia e se pesco uno di questi traditori, un granellino di rena sarà cento volte più grosso del pezzo più grosso che resterà di lui. E Leonetta? Oh, lei ha ragione, maestà, un così buon signore fargli di queste cose. Le sorelle quella sera non volevano proprio calarla, ma lei tanto disse e tanto fece che la misero nella cesta, dichiarando. Beh, fa un po' quello che vuoi. Noi scriviamo subito al nostro padre che non rispondiamo di quello che fai. La cucina e la cantina stavolta erano piene di guardie. Leonetta si intrufolò nel guardaroba e quanti mantelli, pellicce, cappelli con le penne e stivali pote prendere, tanti ne mise nel paniere. Poi diede fuoco a tutto il resto e scappò. A casa la prima cosa che le tre sorelle facevano, ogni mattino, era di nascondere tutta la roba di modo che quando veniva il re non si accorgesse di niente. Così quel giorno ebbero un bel da fare a nascondere tutti quei vestiti che si erano provati e riprovati tutta la notte. Si rimisero i loro panni soliti, ma Leonetta si dimenticò ai piedi un paio di scarpini d'argento. Il re, quando salì nel paniere, aveva i capelli in disordine e i cerchi sotto gli occhi. Sapeste, ragazze mie, disse, sono giunti fino a tentare da piccare il fuoco al mio palazzo. Per fortuna ce ne siamo accorti in tempo, ma il guardaroba intanto è mezzo bruciato. Ora non darò più feste, non farò più niente, ho quasi voglia di abdicare e lasciare la corona. Traditori, gli faceva eco Leonetta. Un così buon signore. Venne l'ora solita in cui il re se ne andava e le sorelle lo calavano giù. Ma mentre il canestro s'abbassava, lui guardando in su vide gli scarpini d'argento di Leonetta e capì che erano quegli spariti dal suo guardaroba, gridò, ah traditora, e fece per aggrapparsi alla finestra. Allora le sorelle mollarono tutte insieme la fune e il re nel paniere cadde giù fino a terra e quasi credevano che si fosse ammazzato, ma poi si rialzò e se ne andò tutto malconcio. Tornò al palazzo zoppicando e subito meditò la sua vendetta. Scrisse al legnaiolo che tornasse immantinente dovendogli parlare. Il legnaiolo che s'aspettava di restare lontano chissà quanti mesi fu tutto contento di ritornare e ancora più contento quando si sentì chiedere dal re la mano di una sua figlia. Una a qualsiasi delle tre, gli disse, quella che mi vuole. Il legnaiolo andò a casa e riferì alle figlie la proposta. La più grande disse, io no babbo, non lo prenderei davvero. E la seconda, neppure io, sa babbo, perché? E Leonetta subito, lo prenderò io. Il legnaiolo tornò dal re e disse, maestà, l'ho detto alle mie figlie. La prima mi ha risposto, io no, non lo prenderei davvero. La seconda mi ha risposto, neppure io, sa perché. E la terza invece, lo prenderò io. Il re si disse, allora è proprio lei la più sfrontata, quella che mi ha combinato tutti i disastri. E al legnaiolo dispose, allora sposerò la terza. Le nozze furono combinate di lì a pochi giorni. La sposa aveva ai suoi ordini tante damigelle della servitù reale. Disse a queste damigelle, sentite, voglio fare una burla al re. Cosa signora, cosa vuol fare? State zitte, mi raccomando. Voglio fare una donna di pasta, grande quanto me, col petto di zucchero e miele e che abbia dei fili che le facciano far cenno di sì e di no. Voglio metterla nel letto al mio posto e vedere se il re se ne accorge. Le damigelle s'affaccendarono e le fabbricarono la donna di pasta. Lei la fece mettere nel letto nuziale, con la sua camicia e la sua cuffietta una notte. Dopo lo sposalizio ci fu il banchetto, la cena e poi venne l'ora d'andare a letto. Leonetta chiese di andare su per prima e si nascose sotto il letto, tenendo in mano i fili per far muovere la donna di pasta. Entrò in camera il re, chiuse la porta e disse. A noi due ora, mia cara, finalmente sei in mano mia. Ti ricordi quando mi dicevi, lei è tanto un buon signore, maestà? Sì, me ne ricordo, disse Leonetta di sotto il letto, facendo muovere il capo alla donna di pasta. Ah sì, e chi era che mi devastava la cucina? Io, maestà, diceva Leonetta e la donna di pasta nel letto muoveva la testa e le mani. Bella impostora, e chi mi devastava la cantina? Io, maestà. E il guardaroba? Sempre io, maestà. E tu credi che tolleri questi sopprusi? Non so, maestà. L'aveva appena detto che il re sguainò la spada e la ficcò nel petto della donna di pasta, credendo fosse la sua sposa, e fu tutto spruzzato di zucchero e di miele. Ecco, t'ho uccisa, prese a gridare. L'hai voluto. E sentendosi sulle labbra zucchero e miele? Eppure eri fatta di zucchero e di miele. Potevamo esser felici. Se tu fossi viva ancora, ti vorrei un gran bene. E Leonetta di sotto il letto, con una vocina flebile, son morta. Cos'ho mai fatto? Si diceva il re. Leonetta mia di zucchero e miele, se tu ci fossi ora, ti vorrei un gran bene. E Leonetta, ormai son morta. Se sei morta, è meglio che muoia anch'io, disse il re, e fece per buttarsi sulla spada. No che sono viva, sono viva, gridò Leonetta saltando fuori di sotto il letto e abbracciandolo. S'attaccarono al collo, si baciarono e dall'ora in poi vissero amandosi felici come Pasque. Ti è piaciuto il video? Allora metti like, sostieni il canale, è sufficiente un semplice like. Vuoi farmi sapere cosa ne pensi? Lascia un commento, ti risponderò. Anche questo può aiutare il canale. E se ti è piaciuto questo audiolibro, iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella. Grazie.